Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze per i cantieri della tramvia è stato allargato il cantiere in Piazza della Libertà ed è scattata la chiusura del collegamento con Viale Don Minzoni. Sempre a Firenze fino al 5 ottobre per lavori di realizzazione del nuovo marciapiede in Via del Paradiso, strada chiusa da Via Fortini a Via San Marcellino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!